Benvenuti a Mappamundi, ancora una puntata speciale dedicata al potere del mito, il volume di Limes che in edicola e anche online. E ospite di oggi è il direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Ciao Lucio. Salve. Allora, intanto siamo tornati nel nostro studio, come potete immaginare anche per noi sono momenti complicati nell'organizzazione, quindi questo è un periodo dove le puntate a volte avverranno in studi diversi e l'ospite ovviamente è in collegamento. E allora, Lucio Caracciolo, il potere del mito, questo volume di Limes fondamentale direi perché proprio tocca uno degli aspetti fondamentali della geopolitica, quindi proprio come le potenze narrano se stesse. In questo però tempo del virus e del coronavirus, sta già cambiando la narrazione del mito che le potenze fanno di se stesse in questa fase? È in corso una competizione fra le potenze per affermare il proprio ruolo in questa competizione, alcune per smacchiare un marchio non brillante, penso anzitutto alla Cina, altre per mostrare che malgrado tutto continuano a occuparsi del resto del mondo e penso anzitutto agli Stati Uniti d'America. La Cina in particolare in questa competizione durante l'epoca del virus che stiamo vivendo ha cominciato molto male perché è stata identificata e Trump continua a identificarla come la fonte di ogni problema, il famoso virus cinese o virus di Wuhan. Però col tempo, soprattutto grazie al fatto che sono riusciti a uscire dall'emergenza, almeno speriamo in modo relativamente rapido, la Cina ora si erge quasi a maestra del mondo, invitando gli altri a imitare il suo modello e esibendosi in una geopolitica degli aiuti, più o meno che sono doni fatti a decine e decine di paesi, tra cui anche il nostro, dove la Cina quindi si presenta come il benefattore, come la potenza che aiuta, come la potenza che vende o regala apparecchiature, mascherine e quant'altro, così acquistando in influenza, in credibilità e in valore del marchio. Sotto questo profilo, in questa fase, la Cina è in vantaggio sugli Stati Uniti. Infatti questo è proprio uno degli aspetti fondamentali. Secondo te questa pandemia è un momento in cui un po' si azzerano i valori in campo? In particolare chi ripartirà meglio da questa crisi? Chi ne uscirà meglio? Avrà ovviamente un vantaggio molto importante e quindi potranno le gerarchie mondiali insomma cambiare? Siamo alla vigilia di un nuovo ordine mondiale, come citando Bush padre? Non si azzera mai nulla nella storia e tantomeno in geopolitica, si parte da quello che si era o si presumeva essere. Quindi ci sono dei dati di base che sono e restano quelli almeno per il tempo che riusciamo a vedere. Su questi dati di base si innestano delle dinamiche, delle accelerazioni, delle frenate, ma credo che sia molto molto presto per dare dei giudizi definitivi. Quelli li darà la storia. Come dicevo, in questa fase la Cina sta lanciando un'offensiva dello Charm che non è mai stata il suo forte, mentre gli americani che sullo Charm, o meglio sul soft power, come preferiscono dire, hanno giocato partite e le hanno vinte, molto importanti. Dopo la seconda guerra mondiale gli americani sono in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli alleati europei che attingono a piene mani dal nemico o rivale, scegliete voi cinese. E paradossalmente il caso limite è quello italiano, dove si presentano in veste di donatori aiutanti più o meno pelosi, paesi come la Cina, come la Russia, come Cuba, cioè non esattamente gli amici dei nostri massimi alleati e quindi alcune delle caratteristiche del nostro rapporto con l'alleato americano sono messe in questione. Hai citato la Russia, anche questo è un caso interessante. È vero che è ancora troppo presto e non si capisce bene poi la realtà dei numeri del contagio in Russia, però se la Russia dovesse come dire essere toccata meno di altri paesi da questa pandemia anche la Russia avrà un voce in capitolo nei prossimi anni? Certamente sì, comunque uno degli aspetti di questa crisi, non solo di questa crisi ma in questo in modo particolare è che ognuno conta come gli pare e quindi è molto difficile valutare il rapporto tra una situazione in un paese piuttosto che in un altro, semplicemente perché le cifre sono falsate o comunque sono contate in modo diverso, specialmente per quanto riguarda i morti con o da coronavirus. Non parliamo poi dei contagi che sono solamente delle astrazioni, visto che il controllo della positività o negatività può essere fatto solo una frazione minima della popolazione. Ricorderei anche il caso della Corea del Sud che pare il paese è stato uno dei primi a essere coinvolto ma che ne stava uscendo meglio degli altri, quindi almeno dal punto di vista economico la Corea del Sud è ben piazzata per il futuro o no? Anche in parte il Giappone direi. Sì, certamente, però non dobbiamo dimenticare che questa è una pandemia, sì da un punto di vista probabilmente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, così si può definirla, ma molto peculiare perché è un'epidemia che è scoppiata in Cina, poi si è trasferita e ora ha il suo focus più importante in Europa e purtroppo in Italia. Nel frattempo si è anche stesa a Nord America e in maniera molto più graduale al resto del mondo, quindi a seconda di dove si trova il focus della pandemia cambiano un po' le relazioni e quelli che prima erano donatori diventano delle potenze che hanno bisogno dell'aiuto altrui e viceversa. Una cosa però intanto si può dire che i protagonisti, ancora una volta anche in questa situazione d'emergenza sono gli stati e le potenze e non le organizzazioni internazionali. In questo senso questo può essere un colpo definitivo per la globalizzazione già messa a dura prova in questi anni? La globalizzazione, che è un termine abbastanza vago e quindi può essere interpretato in vari modi, non sarà per il momento intaccata in maniera decisiva, ma certamente si notano alcune linee di faglia e alcune fratture, in particolare bisogna vedere fino a che punto gli Stati Uniti possono e vogliono continuare nell'operazione di relativo disingaggio dalla Cina e fino a che punto il resto del mondo può staccare dalla Cina e viceversa bisogna vedere se la Cina continuerà a puntare, credo sempre più fortemente, sul mercato interno, sia pure considerando i limiti di quest'operazione che potrebbe portare a qualche rischio per il regime e dall'altra parte come si potrà relazionare chiudendosi in una visione più autarchica con il resto del mondo. E comunque intanto mostriamo una carta di Caoslandia, ma prima di arrivare alla carta volevo chiederti però alla fine sono sempre gli Stati che reagiscono poi sempre allo stesso modo, abbiamo visto appunto Stati che pensano essenzialmente al loro interesse, molte chiusure di Stati e sono sempre loro i protagonisti. Certamente, però noi chiamiamo Stati delle entità abbastanza diverse fra loro, non prenderei l'indice alfabetico delle Nazioni Unite come la realtà degli Stati. È interessante per restare in Europa vedere le diverse reazioni che possono avere degli Stati molto federali come per esempio la Repubblica Federale Germania dove per esempio la Baviera ha chiuso le frontiere con il resto della Germania oltre che con il resto dell'Europa, mentre altri lender hanno una posizione più ambigua rispetto per esempio a paesi più centralizzati come la Francia, ma la stessa Inghilterra. Infatti a proposito dell'Inghilterra, ma secondo te nella prima fase, le scelte politiche della prima fase di Boris Johnson c'era anche un calcolo politico-economico, quello c'è di fare in modo che la Gran Bretagna potesse approfittare della defaianza degli altri paesi? Ma in questa pandemia naturalmente ci si aiuta finché è possibile, ma soprattutto si aiuta a se stessi e si approfitta, per chi può e per chi ha anche la capacità di vedere un pochino più lontano del proprio naso, si cerca di approfittare dei margini di competizione che si aprono per i paesi e anche per alcune realtà regionali. Certamente quello che è evidente è che il fattore Stato diventa in questa fase ancora più dominante di quanto già non fosse prima, ma ripeto, lo era già prima, solo che si faceva finta non lo fosse, almeno secondo alcuni cosiddetti esperti. E torniamo alla carta, questa è una carta di Limes usata in diversi numeri perché è appunto Caoslandia versus Sordolandia. Allora vediamo qui in questa carta dove vediamo le principali potenze, cioè Cina, Russia, degli Stati Uniti, cioè il mondo dell'ordine che comunque è stato il primo a essere coinvolto da questa pandemia e quindi anche qui la parola mondo dell'ordine comincia a essere in discussione. Ma c'è soprattutto questa enorme fascia del Caoslandia, cioè questa fascia del mondo costellata da conflitti, guerre e competizioni di vario tipo, che nel momento in cui la pandemia come purtroppo è probabile si espanderà anche in questa zona, quindi sarà ancora più grave, cioè la pandemia si sommerà a situazioni già gravi. Beh, certamente alcuni aspetti di caos li stiamo vedendo anche nella nostra vita quotidiana e comunque basta seguire il percorso, come dicevo, di questa epidemia, pandemia, fate voi, per osservare che ha un carattere piuttosto boreale e sostanzialmente siamo colpiti molto più noi della parte relativamente ricca, ordinata, pacifica del mondo rispetto alla cosiddetta Caoslandia, ma qui a maggior ragione bisogna considerare la disparità delle cifre. Ci sono dei paesi dove non esiste nemmeno la possibilità di contare approssimativamente coloro che sono colpiti o coloro che moriranno, o dei paesi che vivono, non dico da sempre, ma insomma da molti anni, delle fasi epidemiche fortissime, pensiamo a tutto quello che è l'Africa centrale, il Congo in particolare. Quindi quella che è la situazione in Caoslandia resta un mistero, resta un fatto che dai dati di cui disponiamo, i paesi che sono più affetti da questa crisi sono gli Stati Uniti come terzo paese, l'Italia come secondo e la Cina come primo, però la Cina ne sta uscendo. Intanto mostriamo la carta qui dell'impero americano, anche tornando al discorso della globalizzazione e di quello che è l'area di influenza soprattutto americana. Questa pandemia che impatto avrà in un anno importante americano, quello delle elezioni presidenziali o la questione sarà talmente profonda che tocca all'intero apparato politico americano e in fondo l'elezione è relativa? L'America vive una fase particolarmente interessante, per certi aspetti anche critica, perché questo è un anno ovviamente significativo dal punto di vista politico, ma questa epidemia che sta colpendo gli Stati Uniti molto più di quanto potessero immaginare, segna anche delle linee di frattura all'interno dello stesso sistema americano, basti vedere la posizione peculiare che ha preso la California, lo Stato di New York ed altri che stanno attuando delle misure simili a quelle che stiamo attuando in Italia, mentre altre parti dell'America, altri Stati americani attivano delle procedure o comunque magari non attivano affatto di tipo piuttosto diverso. In tutto questo il rapporto tra governo federale e Stati federati diventa particolarmente interessante. Più generalmente nel mondo, in questa fase gli Stati Uniti sono più ripiegati su se stessi di quanto non siano stati negli ultimi decenni e questo apre delle possibilità e delle necessità. Una questione da osservare da vicino per esempio sono le attività giapponesi. Il Giappone sta cercando, per non restare troppo dipendente dalla Cina, di costituire una sua area di influenza asiatico-pacifica a partire da quella che era la piattaforma del TPP, cioè del progetto di trattato transpacifico lanciato dall'amministrazione Obama e che ora il Giappone sta cercando di trasformare in un'area privilegiata di economie dell'Estremo Oriente più o meno legate fra loro con il Giappone come capofila. Poi c'è la questione che probabilmente sarà di rimente nei rapporti tra Stati Uniti e Cina di Taiwan che in questa crisi sta dimostrando di gestire la situazione epidemica molto meglio di altri e che ha accentuato il suo distacco da Pechino e quindi la possibilità che si arrivi a una crisi su Taiwan fra Cina e Stati Uniti. Comunque è interessante come in questa situazione anche di crisi, di emergenza sanitaria, insomma dovremmo leggere le informazioni che arrivano dai vari paesi anche dal prisma ottico della geopolitica, no Lucio? Cioè il comportamento che stanno adottando questi paesi non è sempre solo un comportamento che ha influenza sull'aspetto sanitario delle persone ma anche è sempre più appunto geopolitico. Ma sì, la storia a partire dall'antichità ci ricorda che le grandi epidemie producono inevitabilmente un impatto geopolitico, qualche volta fanno cadere degli imperi o mettono in crisi dei regimi e questo vale dall'impero romano fino praticamente a questo secolo. Quindi c'è una relazione immediata tra una crisi che non è evidentemente solo sanitaria ma riguarda proprio il modo di relazionarsi delle persone fra loro e delle collettività con le altre collettività, tale questa relazione da impattare direttamente sugli assetti geopolitici. sempre però ricordando che non si parte mai da zero, si accelerano o si rallentano delle dinamiche, si aprono o si chiudono delle opportunità in una fase comunque in cui la parola d'ordine è prima io e poi gli altri. Ricordo che appunto nel volume di Limes in edicola e online il potere del mito proprio si concentra l'attenzione su imperi, imperi sia della storia che imperi attuali. Beh sì, noi in questo numero trattiamo il tema del mito come un tema permanente nella storia universale ma tipico degli imperi, cioè delle nazioni che si attribuiscono una missione più o meno universale a partire evidentemente da Roma e sotto questo profilo la lezione del modo in cui gli imperi e le grandi potenze usano del mito per prevalere sugli altri e per affermare la propria superiore gloria è una lezione che dobbiamo tenere molto presente anche nella contingenza di oggi. E so ovviamente che state lavorando a nuovo volume di Limes che avrà appunto forse il coronavirus come tema centrale? Beh senza forse è in qualche modo inevitabile dopo tutto quello che ci siamo detti che Limes si occupi delle conseguenze geopolitiche del virus su scala mondiale questo è il senso del numero che uscirà il 17 aprile cui seguirà a Dio piacendo un numero invece che si concentrerà su quello che significa per l'Italia sulla geopolitica italiana quindi l'impatto del virus. E quindi ovviamente ne predatteremo anche a Mappamundi del prossimo volume di Limes e ricordo che appunto noi faremo anche tutta una serie di puntate speciali proprio per ovviare al problema delle tradizionali presentazioni di Limes fatte in varie città d'Italia che ora non è possibile fare. Lucio, passiamo sul personale, ti manca questo contatto diretto con i lettori? Cosa cambia per la rivista in questa fase? Ma cambiano purtroppo molte cose perché non solo mi manca il contatto con i lettori ma mi manca anche il contatto con tutti voi, con gli amici che fanno questa rivista insieme a me ma insomma comunque ci si abitua a tutto, c'è più tempo per leggere altre cose, per riflettere e per cercare di dire meno banalità possibile però è chiaro che in una fase di crisi il rischio è che le emozioni, i sentimenti e tutto quello che magari un analista dovrebbe cercare di tenere a bada possano prevalere. Cercheremo di essere i più freddi possibili sapendo che completamente non lo saremo. Benissimo, allora grazie a Lucio Caracciolo e alla prossima puntata di Mappamundi. Mappamundi